buon venerdì buon pomeriggio a tutti e li avete contati qua i quadrettini sono 60 mi raccomando perché poi il giro dopo non viene quindi è certo c'è la chiusura quindi se uno ne fa 60 ma sbaglia non c'è problema perché disfa oppure c'è o tutto o dove si accorge di aver fatto l'errore e poi va a riprendere normalmente cioè qua non è un lavoro a spirale dove è complicato andare a vedere la chiusura sta qui se uno sbaglia un giro e dal successivo si accorge che non va e va a disfare poi si corregge però vabbè è sempre meglio no? a prima botta come si dice fare subito bene in modo che poi non si va a perdere tempo ok noi che cosa dobbiamo fare? giri 9, 10 e 11 per terminare la base del cestino ce la faremo per sabato quindi venerdì che è oggi e sabato che è domani noi dobbiamo andare a fare 3 giri vabbè vedremo dove arriviamo altrimenti ho pazienza lo faremo un altro giorno andiamo quindi nel quadretto successivo che è questo qui facciamo le nostre 3 catenelle come al solito che ci sostituiscono no? la prima maglia alta il segna maglie sta di qua ok segniamo la terza catenella vado piano perché altrimenti se comincio a andare velocemente poi mi sbaglio succede un disastro quindi una catenella ok e una maglia alta nello spazio successivo primo di 9 quadrettini perché qua ancora iniziamo con i soliti 9 quadrettini ormai abbiamo ci abbiamo fatto l'abitudine quindi uno è quello catenella maglia alta nel quadretto successivo quindi due quadretti poi catenella maglia alta questi quadretti sono 3 catenella maglia alta nello spazio i quadrettini sono 5 catenella maglia alta qua nello spazio se quadretti catenella maglia alta nello spazio 7 quadrettini catenella maglia alta nello spazio 8 quadrettini, questo mi fa veramente ridere, questo commitolo che va di qua e di là, per conto suo, erano 7, 2, 4, 6, no, 8, quindi catenella e maglia alta nello spazio 9 quadretti, ricontiamoli un po' per sicurezza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sì, adesso come abbiamo fatto nei giri precedenti facciamo gli aumenti, quindi questa volta ripetiamo un aumento e 4 quadretti per 4 volte, quindi qua ci mettiamo subito il nostro aumento, poi facciamo 4 quadrettini, quindi qua ci sono 2 maglie alte insieme, adesso ne dobbiamo mettere una in ogni spazio successivo, quindi questo è un quadrettino, poi la catenella, la maglia alta in questo spazio e qui c'è il secondo quadrettino, catenella, la maglia alta in questo spazio, i quadrettini sono 3, catenella, maglia alta nello spazio, i quadrettini sono 4, ok? Quindi l'aumento è 1, 2, 3, 4 quadretti, poi una volta, poi facciamo ancora un aumento, quindi la maglia alta insieme all'altra nello stesso spazio, ora i 4 quadrettini, quindi catenella, poi facciamo la maglia alta nello spazio successivo e questo è un quadrettino, una catenella, qua una maglia alta, il secondo quadrettino, una catenella, una maglia alta, questo è il terzo quadrettino, una catenella, una maglia alta e questo è il quarto quadrettino. Il modulo lo abbiamo ripetuto due volte, adesso facciamo ancora l'aumento che sarebbe il terzo di tutto il giro, ok? Quindi l'aumento è 4 quadrettini, catenella, maglia alta nello spazio, primo quadrettino, catenella, maglia alta in questo spazio qua e questo è il secondo quadrettino, poi catenella, maglia alta nello spazio, terzo quadrettino, catenella, maglia alta nello spazio, quarto quadrettino. Tu devi stare fermo da una parte, ok? Quindi il modulo è la terza volta che lo ripetiamo. Adesso per la quarta e ultima volta, quindi qua ci mettiamo l'aumento, ok? Questo qui. E poi facciamo i 4 quadrettini, la catenella, la maglia alta in questo spazio qui, poi una catenella e una maglia alta nello spazio successivo che è questo, una catenella, una maglia alta in questo spazio qui e i quadrettini sono 3 a questo punto, no? Quindi 1, 2, 3, sì. Una catenella e una maglia alta nello spazio, i quadrettini sono 4. Abbiamo ripetuto il motivo di 1 aumento e 4 quadretti per 4 volte, quindi 1 aumento 1, 2, 3, 4 quadretti una volta, 1 aumento 1, 2, 3, 4 quadretti due volte, 1 aumento 1, 2, 3, 4 quadretti tre volte, 1 aumento 1, 2, 3, 4 quadretti quattro volte. Adesso dobbiamo andare a mettere il quinto aumento, perché gli aumenti ne facciamo 5, lo mettiamo qui, il quinto aumento, quindi un'altra maglia alta dove avevamo messo la maglia precedente e poi qua giù ci sono 14 quadretti, perché nel settimo giro, se non sbaglio, i quadretti erano 13, quindi adesso sono diventati 14. uno è questo qui, poi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allora lo mettiamo qua, il tredicesimo quadrettino e poi l'ultimo, il quattordicesimo. andiamo senza contare, che dite? Ok, andiamo senza contare, poi semmai dispiamo tutto, stiamo qui fino a domattina a ripetere il nono giro. Allora, qui dobbiamo fare il modulo, quindi altre quattro volte, un aumento e quattro quadrettini, quindi qua ci mettiamo l'aumento, poi i quattro quadretti, quindi questo è uno, una catenella, la maglia alta nello spazio successivo e questo è il secondo quadretto, poi una catenella e la maglia alta ancora nello spazio successivo, terzo quadretto, la maglia alta, quarto quadretto, quindi il modulo una volta, poi una catenella e andiamo a fare l'aumento, aumento e quattro quadrettini, quindi uno, due, tre e quattro quadrettini. Mi sembra due volte, sì, quindi una e due volte, l'abbiamo ripetuto. Adesso ancora l'aumento, quindi una maglia alta nello stesso spazio e questo è l'aumento, ok, poi i quattro quadrettini, quindi uno, due, tre e quattro quadrettini. Tre volte, no? L'avevamo fatto ancora, quindi una volta che è l'ultima, facciamo il nostro aumento e i quattro quadrettini, per cui catenella, maglia alta nello spazio, catenella, maglia alta nello spazio successivo e sono due quadretti, catenella, maglia alta in questo spazio qua, i quadretti sono tre, catenella e maglia alta nello spazio, i quadretti sono quattro, andiamo a guardare perché non lo so proprio. Allora, da qui un aumento è uno, due, tre e quattro quadretti, ok? Un aumento è uno, due, tre e quattro quadretti e sono due volte. Un aumento è uno, due, tre e quattro quadretti tre volte, un aumento è uno, due, tre e quattro quadretti quattro volte. Non ci avrei giurato, però è venuto, quindi siamo a posto. Mettiamo l'ultimo aumento, che è il quinto, cioè il decimo, il quinto di questa parte in tutto con gli altri cinque, no? È il decimo aumento, quindi qua ci mettiamo l'aumento. Poi i quadretti dovevano essere quattordici, quindi erano nove, ne mancano uno, due, tre, quattro e cinque, no? Per arrivare a quattordici, per cui andiamo a fare questi cinque quadretti. Contiamo nove, con questo è il decimo, da questo lato, no? Nove più uno, dieci, poi undici, dodici, tredici, ecco qui, ok? E poi no, quattordici, perché praticamente con l'ultima catenella qua noi facciamo il quattordicesimo quadretto di quest'altro versante. E quindi terminiamo necessariamente con cinque quadretti, tutti di fila, dopo l'aumento. Andiamo a vedere, dopo questo aumento, questo qui, uno, due, tre, quattro e cinque. Nove più cinque, quattordici. Ok, io direi di iniziare, di iniziarlo il decimo giro, perché comunque dobbiamo fare nove quadretti. Poi vabbè, termineremo domani e vediamo se ce la facciamo o no a fare anche l'undicesimo. Quindi, sono andata nell'altro quadrettino con la maglia bassissima, avete visto, come sempre. Poi ho fatto le tre catenelle e ho messo il segnale. Adesso una catenella e il primo di nove quadrettini. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Nove quadrettini con cui iniziare il decimo giro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Ok, io però mi fermo, perché dobbiamo fare gli aumenti, no? E quindi non li facciamo spezzati, questi aumenti un po' qua, un po' da quest'altra parte, no. Infatti, no, vedete che, ecco, vi volevo dire una cosa, ve lo dico così a voce, poi chi magari capisce, cioè, io mi spiego in modo che alcuni possano capire, altri, chiaro, non capiranno, perché io ho dato una spiegazione, come al solito, assurda. E quindi, va bene, comunque, chi riesce ad interpretare questo che dico, va avanti. Chi non ci riesce, aspetta me, così almeno sbagliamo insieme, ok? Va bene, allora, dicevo, non è un giro con 70 quadretti, no? Perché, teoricamente, abbiamo sempre proceduto così, proceduto si dice? Boh, processo, no, non lo so, vabbè, siamo sempre andati avanti così, quindi, teoricamente, dite, vabbè, è il giro dove bisogna fare 70 quadretti, no? Bisogna mettere gli aumenti, perché, vedete, già comincia un po' a fare così, quindi tutti aumenti nei giri successivi, quindi sia nel decimo che nell'undicesimo. Qui facciamo 5 quadretti, scusate, un aumento e 5 quadretti per 4 volte, poi mettiamo gli aumenti e qui ci facciamo 15 quadretti, poi facciamo un aumento e 5 quadretti per 4 volte e l'aumento, e poi facciamo 6 quadretti, perché 9 più 6 fa 15, come da quest'altra parte. Quindi è un giro necessariamente uguale a quello che abbiamo appena fatto, ovvero il nono, soltanto che invece che un aumento e 4 quadretti, bisogna fare un aumento e 5 quadretti e aumentarne, cioè aumentarne, e praticamente, non teoricamente, ne aumenta uno qui. Però, ripeto, se non mi sono spiegata perché è tardi, perché 15 minuti già li abbiamo passati, non è un problema, è colpa mia, e quindi non vi preoccupate di questa cosa, lo facciamo tranquillamente domani insieme, perché poi magari ci prendiamo qualche minuto in più e finiamo così anche l'undicesimo giro, dove invece gli aumenti li mettiamo un po' differenti, ok? Va bene, a domani, buon proseguimento di serata e buon weekend a chi invece deciderà di seguirci direttamente lunedì saltando sabato e domenica. Cioè, domenica non faremo, credo, qualcosa, adesso vediamo, forse vi devo dire qualcosa, non so. Va bene, comunque, buona serata e buon weekend.